ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi passeggiata lungo fiume foro con aria e kim alessandro e mia facciamo scendere ariel kim ariel seduta qui si possono sciogliere i cani seduta non passano le macchine kim vieni qua kim seduta kim seduta seduta brava seduta a e a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.